grazie oh, c'è che porra, porra è fatto più di due, quant'era il jackpot? 200,000 200,000 è stato quello di riparere da 11 soldi ma cazzo, 3 e 1 ma poi ogni volta che faccio quello delle palle mi fidiscono il giro tutte le volte ma che culo ho fatto il jackpot è entrato a 160 ma che non è possibile il culo quando c'è ho fatto il jackpot ho fatto il jackpot il 5 è meglio che il 1 il 5 è meglio che il 1 il 5 è meglio che il 5 è più grande le risposte zombie è il 1 il 5 è più grande è più grande Grazie a tutti. Ho vinto, drop ball, 23, 24 ball, ve lo vedo, 24 ball, 23 ball, così, intanto 23 ball, e scaricare. Oh, c'è un bombardavetto di palle, qua. È finito il ticket, Pietro. Eh, adesso mi fai, adesso, mi lascio pure, io ti guardo il fuoco. Ah, dai, sono finiti i ticket, ma sempre i ticket mi finiscono. Eh, ma non posso andare. Cinque, quattro. Dai, fammelo a chiamare, Pietro. Fammi... 227. 227. Oh, ma è subito. 227. Sì, vai a chiamare il 5, dai. Sì, sì. Vai a chiamare il 5, dai. Sì, sì. 5, dai. 5, dai. Paglia, una falla al bonus. Grazie a tutti. Grazie a tutti.